Non è giusto molestar chi non ha più mamma e papà, proprio così non va, non va, non va, non va, non va, non va. Non è un po' di stare che ora ci sorporà, tra la la, 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 e lo diremo voi che non è giusto molestar chi non ha più mamma e papà, proprio così non va, 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 non va Grazie per la visione! Grazie per la visione!